Alla ricerca di un PC da gaming economico? Bene, oggi vi diamo qualche consiglio su come risparmiare sul budget della build. Ciao a tutti ragazzi, sono Davide e benvenuti su SD Hardware. Oggi, insieme al Baby Yodo, vediamo qualche consiglio su come realizzare un PC da gaming spendendo il meno possibile. Ci sono ben 4 consigli che possiamo darvi per cercare di limitare al più possibile il budget. Il primo consiglio non è altro che dare un'occhiata al mondo dell'usato. Questo, infatti, spesso non viene considerato perché magari si ha paura di prendere articoli che poi non funzioneranno, artwork senza garanzia. Beh, il mio consiglio è di controllare il mondo dell'usato tramite subito .it e il marketplace di Facebook. Vedere, ovviamente, se troviamo delle persone che hanno un minimo di recensione e quindi sono affidabili. E, soprattutto, vedere le condizioni del prodotto. Ci vuole poco a capire se una scaramata è stata trattata bene o male. E, ovviamente, è un po' più difficile, magari, per un processore. Magari capire se è stato overclockato o come è stato trattato, insomma. Voglio dirvi una cosa. Inoltre, molto spesso, se prendiamo un prodotto della nuova generazione e lo confrontiamo con quello della generazione precedente, ma di livello successivo, la maggior parte delle volte abbiamo praticamente lo stesso prodotto. Vi faccio un esempio. Se prendiamo l'I7 8700K, non è altro che un 10600K di 4 anni fa, di 3 anni fa. Quindi, se troviamo un affare, magari tenendo sott'occhio le aste di eBay o semplicemente il mercatino dell'usato su Facebook o, non so, subito.it, magari riusciamo a prendere un 8700K, intorno ai 140-150 euro, risparmiando così, magari, sull'acquisto del nuovo processore, che potrebbe essere un 10600K, avendo, ovviamente, le stesse prestazioni. Inoltre, acquistando un 10600K, siamo costretti ad acquistare una Z490, se vogliamo fare overclock. Mentre, nel caso di un 8700K, è possibile acquistare una Z390, che hanno un costo nettamente inferiore ad oggi, visto che è una scheda madre con un socket un po' più vecchiotto. Praticamente, vi trovate stesse prestazioni, risparmiando sia su processore che scheda madre. Cosa volete di più? Stesso discorso, vale per le schede video. Vale una legge, ma non è una legge, è una convenzione. Vi faccio l'esempio. Di solito, una 1650 andrà più o meno come una 1060. Diciamo che è una convenzione, non è un dato di fatto. Cioè, magari non è la stessa cosa. Per quanto riguarda il secondo consiglio, tenete d'occhio il mondo del ricondizionato. Infatti, ci sono piattaforme come Amazon, ma anche Price, che hanno la loro sezione dei ricondizionati. Vi lascio il link in descrizione di tutte e due le sezioni, sia di Price, sia di Amazon. Ed è davvero buono per fare belli affaretti sul mondo dell'hardware. Questo perché è possibile prendere gli articoli a costo nettamente inferiore. Vi faccio l'esempio. Sono riuscito a prendere sul Price ricondizionato un 10600K, praticamente nuovo. Loro lo richiamano ricondizionato gold. Praticamente ha 180 euro, invece che i 220 che sta in queste settimane di febbraio 2021 su Amazon. Per quanto riguarda Amazon, ovviamente c'è il warehouse con due anni di garanzia. Politiche di reso identiche a quelli degli articoli nuovi. Quindi, fra un mese succede qualcosa, prendiamo, facciamo il reso e Amazon ci dà il rimborso. Ed è possibile trovare praticamente tutto. Dal case, alle RAM, a un processore, alle schede matri, agli alimentatori. Diciamo che schede matri e alimentatori, fai attenzione a prenderli. Però, ovviamente, vedete, vi arriva, vedete cosa vi arriva. Male che vada, fate il reso. A vedere risolto il problema. Terzo consiglio, tenete sott'occhio i gruppi di Telegram. Infatti, Telegram è uno strumento molto utile in questi casi. Esistono molti gruppi in cui sono praticamente dei bot in cui vengono automatizzate le pubblicazioni di tutte le offerte degli articoli. Ci sono alcuni che sono, ovviamente, offerte in generale. Ma, nel nostro caso, ci sono molti gruppi dei nostri colleghi che pubblicano soltanto periferiche, hardware o comunque qualsiasi cosa intorno al mondo del computer. Noi stiamo sviluppando il nostro gruppo Telegram, arrivare a presto, ma, intanto, vi consiglio di utilizzare quello dei nostri colleghi. Vi faccio un esempio. Sono riuscito a prendere, tramite questi gruppi, una tastiera Razer Black Widow Elite a circa 100 euro, invece che i soliti 150 che sta su Amazon e i 180 di destino. Beh, se andate così, anche per esempio su SSD, RAM, risparmiate 20, 30, 40 euro, beh, vedete che il budget sul vostro PC si abbasserà notevolmente. Come quarto consiglio, utilizzate Kipa. Kipa è, praticamente, un tracker di prezzi su Amazon. Una volta che viene impostato su un articolo un certo tetto in cui noi vogliamo essere avvertiti, veramente non è falto rinviarci una mail o addirittura mandare un messaggio su Telegram con scritto, appunto, che questo articolo ha raggiunto il tuo prezzo desiderato. Praticamente, se non andate di fretta, è il modo migliore per risparmiare. Comprate un pezzo ogni volta che va sotto al prezzo da voi scelto. Meglio di così, credo che non si può. Ovviamente questo era un video in cui davamo consigli, magari se vi vengono in mente altri, commentate in maniera tale che potete aiutare magari qualche altro utente che cerca consigli di questo tipo. E se vi sono stati utili, beh, mettete un like, commentate e iscrivetevi al canale. Beh, detto questo, credo che possiamo salutarci. Un bel saluto dal Baby Yodo, da Davide, e ci vediamo al prossimo video. Un bel saluto dal Byrne Un bel saluto dal Baby Yodo, da Davide, e ci vediamo al prossimo video. Un bel saluto dal Baby Yodo iscrivetevi al canale.